Ciao a tutti dai più grandi e più piccini! Io sono Elisabeth e nel video di oggi vi canterò un'altra canzone e questa è molto golosa perché sono le tagliatelle di Nonna Pina! Mmm che buone! Via con la canzone! La sveglia sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho alzarsi così presto non ne puoi salutare, ragazzi prima o poi mi ammalerò invece oltre la scuola cento cose devo far, inglese, pallavolo e perfino la tea dance e a fine settimana non ne posso proprio più, mi serve una ricarica per tirarmi su ma un sistema rapido, infallibile, geniale, fortunatamente io ce l'ho se me lo chiedete per favore, il segreto io vi svelerò ma sì, ma dai, e dicelo anche a noi, sono le tagliatelle di Nonna Pina un pieno di energia, effetto vitamina mangiate calde con ragù, con ragù, ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più perché le tagliatelle di Nonna Pina sono molto più efficaci di ogni medicina sensazionale a pranzo e a cena, credi a me, sono buone anche il mattino al posto del caffè, yeah! la situazione è grave ed anche i miei amici sono tutti un po' stressati per il troppo lavorare, il tempo pieno a scuola non lo vogliamo fare, vogliamo star con mamma e papà ma intanto mi hanno iscritto anche un corso di Kung Fu, sfruttando l'ora a buca per far gritarre ciclocross, è veramente troppo, io non ce la faccio più mi serve una ricarica per tirarmi su, ma un sistema rapido, infallibile, geniale fortunatamente io ce l'ho ma sì, ma dai, e dicelo anche a noi, sono le tagliatelle di Nonna Pina un pieno di energia, effetto vitamina mangiate calde con ragù, caragù ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più perché le tagliatelle di Nonna Pina sono molto più efficaci di ogni medicina sensazionale a pranzo e cena, credi a me, sono buone anche il mattino al posto del caffè viva le tagliatelle di Nonna Pina, un pieno di energia, effetto vitamina sensazionale a pranzo e cena, credi a me, sono buone anche il mattino al posto del caffè e allora forse a Dev che problema c'è, ci pensa la Nonna Pina a toglierti lo stress questo video, canzone, si conclude qua, spero che vi sia piaciuto, lasciate tanti pollici in su iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti e se volete scrivermi un commentino potete farlo sui miei altri social ovvero TikTok, Instagram e sulla mia pagina Facebook troverete tutti i miei nomi qui sotto nel link della descrizione e ciao, tanti abbracci canterini!